Con D'Ambrosio che ha lavorato bene questo pallone, ha il cross in mezzo di Cantona e c'è il gol, ed è 1-0 Inter con Eder che trova il gol di testa da punta centrale 8 minuti, tutto regolare, siamo stati un attimo in sospeso per provare a scondere il pallone palla ancora sul destro, Liberi cerca il fondo, a disturbare c'è D'Ambrosio, altra apertura cross dentro a cercare Comanna, che prende bene il tempo qui a Negatomo ma comunque il disturbo in qualche modo arriva e gli impedisce di colpire di testa come avrebbe voluto Lissola, tiene viva, ancora D'Ambrosio, linea orizzontali, altro giro palla a cercare Kames che prova, qualcun forse è la più intelligente del cross Si è concretizzata, anche per la sconfitta della Roma e preliminari Champions, ed è 2-0 Inter, sempre con Eder, sempre di testa, sempre su cross Stavolta la sinistra